Sì, sono sicura che ci siano altre, poi ultimamente hanno scoperto che ci sono anche altri pianeti dove c'è l'aria, c'è la luce, c'è l'ossigeno, c'è tutto quello che abbiamo noi, quindi sicuramente esisteranno altre forme di vita nell'universo. Un po' mi fa paura, però io penso che esistano altre forme di vita nell'universo, non penso che siamo gli unici in tutto l'universo e mi piacerebbe scoprirlo, mi piacerebbe scoprire se esiste un'altra forma di vita e che genere di vita è. Questa è una bella domanda, nello spazio non credo. Mi aspetto che nell'universo non siamo soli, me lo auguro, la probabilità di incontrare forme di vita diverse dalla nostra è molto bassa, l'aerospazio cerca di migliorare la vita sulla Terra e a futuro remoto quello che l'aerospazio offre come tecnologie riguardano da una parte l'osservazione della Terra, d'altra parte queste stesse tecnologie possono essere utili per andare oltre la Terra e quindi esplorare altri pianeti, la Luna e queste tecnologie aerospaziali ci permettono di andare verso di essi e noi quindi proponiamo a futuro remoto una serra in cui c'è la biorigenerazione che è un contenuto tecnologico necessario, essenziale per l'esplorazione spaziale. Grazie